La donna non si poteva vestire, però mi aggiustavo un pochino, non so, una sciarpa, un po' di permanente. Ho ricevuto un bacio da una donna all'età di 16 anni, mi ha sconvolta. Ho sentito che si poteva fare l'amore fra donne e di quella mi ero proprio innamorata perdutamente. Che passione! Si veneva sempre nascosto, se ne parlava con scherno, con smorpie, che non era possibile dire io sono omosessuale. Questa vita, se continua così, non mi dispiace affatto. Il cameratismo, tanto screditato dal tenente, in fondo è divertente. La donna lì è una che non va mica bene, eh. Pensa che porta i cioccolatini alle impiegate della posta. Sai, tu sei l'eternità.